Buongiorno a tutti gli amici di Pianeta Pane, sono Andrea Ottolina amministratore delegato di Molino Colombo. Con la nostra nuova gamma di farine da 2 kg nell'innovativa confezione in appostera modificata per una migliore confezione della farina, finalmente le massaie potranno utilizzare le farine dei grandi maestri dell'arte bianca. Vi aspettiamo sul primo marketplace delle farine di alta gamma su Pianeta Pane. Grazie per la visione!